Quarto appuntamento della stagione del Moto Mondiale 2021, si è corso a Jerez, la seconda gara europea della stagione ed è una gara storica per quanto riguarda la categoria regina in quanto la Ducati fa doppietta e si prende anche la leadership del campionato del mondo con Francesco Bagnaia è un race podcast questo che esce due giorni dopo, un po' per motivi di lavoro, un po' perché sto ancora smaltendo la contentezza e la goduria immensa visto che io sono un tifoso della Ducati e dunque questo video per quanto riguarda la classe MotoGP sarà un pochino di parte ma è giusto celebrare quello che è effettivamente un qualcosa di storico, ovvero la doppietta della casa di Borgo Panigale in una doppietta incredibile, una cosa che non accadeva da 14 anni, era il 2006, anzi sono 15 per la precisione che la Ducati non vinceva in una pista palesemente ostica per le caratteristiche della moto italiana, c'è stato sempre un dominio di Honda Yamaha dopo la vittoria di Capirossi nel 2006 adesso questo tabù è stato spezzato e ci pensa Jack Miller il pilota australiano che vince la sola seconda gara della carriera 5 anni dopo l'ultima che fu sotto il diluvio di Arsenal all'epoca, il pilota australiano correva con una Honda clienti del team Mark VDS che oggi è presente in Moto2, il secondo classificato della gara è Francesco Bagnaia che dunque si prende tappa e maglia in un certo senso, seppur di fatto non abbia vinto, perché comunque c'è anche una debacle incredibile di Fabio Quartarò il pilota piemontese, è il leader del campeonato del mondo dopo quattro gare senza vittorie ma comunque vedere una Ducati prima in classifica dopo i vari tentativi fatti da Andrea Dovizioso dopo l'epoca di Stoner che di fatto con la Ducati fece quello che fece dominando le gare facendola veramente andare come Dio comanda, è effettivamente qualcosa di straordinario visto che appunto questa cosa molto importante per la Ducati si verifica in una pista dove sulla carta ovviamente la moto di Borgo Panigale non era assolutamente favorita la gara di Jerez della frontiera è anche il riscatto della Ducati ufficiale nei confronti della Ducati clienti perché fino a questo momento la Ducati Pramac aveva sempre dato paga alla Ducati ufficiale cosa che in realtà dovrebbe essere l'esatto contrario qui la Ducati Pramac in realtà ha corso a mezzo servizio perché Orge Martiglia era infortunato e Tito Rabatta ha fatto un poderosissimo centesimo posto e quindi non era un fattore Johan Zarco ha fatto punti ma non era più magari in smalto come nelle prime due gare del Qatar e dunque è tornata un po' a sorpresa, un po' costruendo una gara molto importante la Ducati ufficiale che vince con Jack Miller e per lui suona Advance Australia Fair l'inno nazionale dell'Australia e sentire l'inno australiano accoppiato a un pilota vestito di rosso a me che sono tv della Ducati sinceramente fa venire tantissimi brividi pensando ovviamente a piloti molto più titolati di Miller basti pensare a Belis e Stoner ma comunque che bello vedere una gara così importante per la Ducati che da tempo non si esprimeva su questi livelli soprattutto in una pista non sua la vittoria di Miller lo lancia qui al sesto posto scusatemi del campionato mondiale a 39 punti e ancora lontano ovviamente dal leader che è il suo compagnolo di squadra Francesco Balea ma comunque è una doppietta straordinaria è molto importante anche la terza posizione perché completa il podio un altro italiano Franco Morbidelli con la Yamaha clienti del team SRT una Yamaha clienti che deve ringraziare Franco Morbidelli che è un pilota molto più potato di quanto Yamaha non sembra far trasparire un terzo posto con una moto vecchissima è una prestazione sontuosa per il pilota italiano che non solo dà la paga a quello che resta del suo compagno di squadra ma evidentemente risulta essere al migliore Yamaha in pista perché mancora una volta il Yamaha ufficiale fa una debacle perché come vedremo Vignales finisce settimo in una gara in realtà abbastanza anonima ma soprattutto Fabio Quartarro partendo dalla pole position perde di fatto tantissimi punti del campionato del mondo e finisce tredicesimo quasi ai margini della zona punti considerato che appunto a punti ci vanno in 15 partendo dalla pole si aspettava una gara importante del francese che in realtà si è verificata soltanto per due terzi di gara nell'ultimo terzo poi Miller l'ha passato e Quartarro ha seduto di schianto complessi anche probabilmente un problema al braccio e dunque finisce tredicesimo il pilota francese perdendo la leadership del mondiale di soli due punti per quanto sia poco indicativo dopo quattro gare su 19 totali è comunque un piacere celebrare la leadership di Francesco Bagnaia uno dei leader diciamo silenziosi di questo campionato dico silenziosi perché è sempre stato un pilota costante da prime posizioni non ha mai dimostrato l'acuto per il momento la scommessa di Ducati Ufficiale sta pagando io all'inizio ero un po' scettico del fatto che Bagnaia possa diciamo essere stato messo su una Ducati Ufficiale un po' prematuramente visto che nella stagione scorsa ha faticato nella stagione prima aveva anche fatto qualche infortunia aveva fatto soltanto un podio in carriera e invece una scelta per il momento importante di Ducati si sta rivelando vincente perché Bagnaia si sta dimostrando un pilota adatto a questo Ducati e i risultati di questa stagione sulla Ducati Ufficiale non sono assolutamente da meno con appunto tre podi su quattro gare ancora nessuna vittoria ma come per Quartararo il discorso si fa per Bagnaia quattro gare sono assolutamente poco indicative è una gara che appunto celebra tantissimo la Ducati per questa grande vittoria e di fatto lascia anche qualche segnale nel senso che effettivamente probabilmente la Yamaha ufficiale ha accusato il colpo e dovrà subito riscattarsi già dalla gara di Francia sul circuito Bugatti di Le Mans gli altri piazzamenti strepitoso quarto posto per Takaki Nakagami con quello che resta della Honda in una moto che è vero aveva ancora una volta il ritorno di Marc Marquez che però ha fatto abbastanza fatica complice anche appunto la ripetazione dei posti infortuni Nakagami con la Honda clienti del team di Cecchinello fa veramente una gara strepitosa e per me al di là dei colori della Ducati ufficiale è il giapponese il rider del giorno la quinta posizione per Juan Mir anche lui ancora una volta sta facendo una stagione molto costante sempre lì nelle prime posizioni sempre a punti ma è un errore e ancora una volta potrebbe essere un fattore questo per il finale della stagione che è ancora molto lunga conferma un altro strepitoso sesto posto l'apriglia del team Gresini con Aleix Spargaro ancora una volta una posizione importante per il potere spagnolo di Vignales abbiamo detto invece settimo ottavo è Johan Zarco che dopo il ritiro di Portimao che appunto lo vedeva come leader del mondiale ha perso un attimino la trebisonda e comunque fa punti ma sono punti di rincalzo diciamo così ottavo posizione per il pilota francese non ha posizione per appunto Marc Marquez che comunque ha fatto due top 10 in una condizione molto precaria un Marc Marquez di questo tipo è un pilota al 50% neanche della condizione forse anche meno chiude la top 10 la seconda onda ufficiale con Polizio Spargaro che comunque sta facendo meglio di quel Orge Lorenzo che fino a qualche anno fa era in onda ufficiale e ha fatto anche meglio di Alex Marquez che era un pilota comunque abbastanza cerbo e in realtà lo è ancora adesso gli altri piloti abbiamo detto degli italiani vediamo come sono arrivati gli altri fa punti Danilo Petrucci comunque in una stagione molto anonima della propria carriera con la KTM sedicesimo è Luca Marini che comunque sta facendo una stagione di apprendistato diciassettesimo Valentino Rossi che ancora una volta fa l'ennesima gara anonima della sua carriera diciannovesimo il collaudatore dell'Apriglia Lorenzo Salvadori e chiude Enea Basterini purtroppo ritirato per una caduta in ogni caso il best di Rivini si conferma ancora una volta il miglior rookie davanti a Jorge Martini che comunque ha saltato due gare probabilmente nel titolo platonico di rookie dell'anno vedo meglio il pilota spagnolo rispetto a uno dei miei pupilli Enea Basterini in ogni caso è una festa per l'Italia perché appunto ripeto vince è vero un pilota australiano però su Ducati ufficiale Jack Miller ma un italiano su moto italiano ovvero Francesco Bagnaia è il leader del campionato mondiale seppur appunto se ne parla soltanto quattro gare festeggia l'Italia in MotoGP festeggia l'Italia però anche in Moto2 e passiamo alle altre categorie perché c'è la prima vittoria della carriera in questa classe per Fabio Di Gianantonio il pilota romano che di fatto dopo averlo inseguita tantissimo tempo nelle stagioni precedenti di fatto a sto giro riesce a fare una gara di autorità sempre in testa del Nia Zulafiri non ha mai ceduto un centimetro il pilota romano e taglia il traguardo per primo facendo risuonare per la seconda volta nella stessa giornata fratelli d'Italia perché ci sarà un altro italiano che triunferà in un'altra categoria ma ne riparleremo alla fine di questo video per appunto Di Gianantonio è la prima vittoria in carriera in Moto2 dopo che ci è andato vicinissimo lo scorso anno ed è una vittoria molto importante perché Di Gianantonio corre per il team di Fausto Gresini che appunto è mancato in quest'inverno per Covid ed è stata la prima gara del figlio Luca come di fatto team manager del team di Gresini e dunque vittoria anche ovviamente simbolica per il ricordo di Fausto Gresini quello che è importante è che Di Gianantonio con questa vittoria si conferma tra i primi 5 del campionato mondiale di Moto2 e ancora una volta una giornata fondamentale per i colori italiani in questa categoria perché in seconda posizione c'è Marco Bezzecchi un altro dei piloti italiani competitivi probabilmente Bezzecchi e Di Gianantonio sono gli unici due italiani competitivi in questa categoria in un campionato che vede i Big 3 se possiamo usare un termine cestistico Garner, Lowe e Fernandez fare di fatto un campionato di livello leggermente superiore ai due piloti italiani il leader appunto di questo campionato è Garner che finisce quarto perdendo il po' di involata con Sam Lowe che accorcia sul pilota australiano il pilota inglese paga purtroppo il ritiro di Portimau dopo una sola curva ma ricuce a tre punti di distanza darle il leader del campionato ovvero all'australiano Remy Garner figlio di Wayne quinto è quel Raul Fernandez tanto diciamo portato bene da KTM uno dei miei piloti preferiti del Circus Intero del Moto Mondiale un pilota che sta già dimostrando di adattarsi benissimo a una moto complicata come la Moto 2 e in particolare quella del team di Aki Ayo comunque è abbastanza evidente come i primi cinque ovvero fino a Di Gian Antonio stiamo facendo un campionato a parte le altre posizioni sesta posizione per Ciavi Vierche con il team Petronas settimo posizione per Ayo Gura un altro rookie proveniente dalla Moto 3 che si sta anche lui adattando molto bene a questa Moto 2 ottavo è Joe Roberts l'americano del team Italtrans nono è Aaron Canett con la migliore del Bosco Scuro e decimo è Marcel Schroeter anche lui pilota costante a sto giro però non per posizioni che contra ma per posizioni più di rincalzo gli altri italiani che finiscono a punti c'è Stefano Manzi tredicesimo tutti gli altri sono finiti fuori dai punti in una gara pressoché anonima se invece di gara anonima abbiamo parlato per molti piloti italiani non si può dire per Pedro Acosta un classe 2005 veramente strepitoso 16 anni per il pilota spagnolo che ancora una volta fa il bello e il cattivo tempo in Moto 3 e vince anche la gara di Rez della frontiera al circuito di Angel Nieto un pilota strepitoso Acosta che veramente ha dimostrato di vincere in tutti i modi già a partire dall'impresa storica in Qatar qualche tempo fa a vincere pure in mischia la gara scorsa qui di fatto il canovaccio è lo stesso lascia tirare gli altri e poi infila la zampata vincente negli ultimi giri andando direttamente a vincere la terza gara di fila per Acosta è la leadership più ampia che si sia mai vista in un campionato del mondo Moto 3 con 3 primi e 2 secondi posti fanno 95 punti tutti gli altri sono after the music e vale per tutti sia per Romano Fenati che fa secondo in questa gara di Jerez della frontiera e per Jeremi Alcoba pilota spagnolo che fa il primo podio di questa stagione pilota del team Grisini è un livello della Moto 3 per la verità abbastanza basso perché tolto Alcoba tutti gli altri sono piloti più o meno dello stesso livello non dei fenomeni e vale anche per gli italiani che sono dietro a Acosta che sono dietro peraltro a più di 50 punti di distacco che per intero ci è due vittorie l'Italia della Moto 3 punta su tanti piloti esperti di questa categoria che però effettivamente fanno fatica di fronte anche a un pilota che è effettivamente un crack come Pedro Acosta e il distacco la dice veramente lunga sul livello di questa Moto 3 in generale piloti italiani e non escluso appunto il fenomeno della Red Bull KTM il podio appunto lo dicevo lo completano in realtà a Fenati e Alcoba perché all'ultima curva Danny Zonku che stava facendo la gara della vita per provare a raggiungere il primo podio della carriera centra Ayumu Sasaki e Haume Masiya che erano in lotta per il podio sarebbe stata una tripletta per le KTM ufficiali e invece Onku fa la frittata e di fatto concede il regalo a Fenati e Alcoba che tagliano il traguardo per secondo e terzo a costa della gara l'aveva in realtà già vinta e quindi appunto anche per questo motivo il distacco rispetto a Nicola Antonelli che finisce ottavo è assolutamente ampio sopra i 50 punti è qualcosa veramente di incredibile certo è presto per etichettare a costa come un fenomeno però insomma va detto che i crismi ci sono tutti e chissà che l'anno prossimo in Moto2 perché se continua così a costa andrà in Moto2 cosa potrà combinare il pilota spagnolo che appunto ricordiamo è giovanissimo soltanto 16 anni per lui e per lui suona la marcia reale l'innozionale spagnolo vi dicevo all'inizio del video che l'Italia comunque festeggia in un'altra categoria perché ha esordito ai res della frontiera la Moto2 che non è un campionato del mondo vero e proprio ma è una coppa del mondo che si disputerà su soltanto sette gran premi e il primo lo porta a casa il pilota del team Prama Alessandro Zaccone italiano con la carriera numero 61 prima vittoria in Moto2 per lui lui che è arrivato l'anno scorso i piloti dietro sono quelli che completano il podio è stata una grande lotta con lo svizzero Dominic Gerter che è sicuramente uno dei favoriti del campionato e il campione del mondo in carica Jordi Torres del team Pons HP40 il podio esattamente così come lo vedete per Alessandro Zaccone primo suona il nostro rinno nazionale che è fratelli d'Italia secondo appunto Gerter e terzo Jordi Torres delusione grande per Eric Granado che è uno dei favoritissimi al titolo del mondo e anche a questa gara del Gran Premio di Spagna appunto perché Granado ha fatto una pole stratosferica al sabato ma non ha concretizzato alla domenica finendo soltanto tredicesimo in una gara veramente orrenda per il brasiliano è un'Italia che comunque può considerare Mattia Casadei quarto in classifica ottavo l'esordiente Andrea Mantovani per completare gli italiani abbiamo Kevin Zannoni campione italiano del CIV tre volte e che si ricicla tra virgolette in moto è un campionato appunto molto corto che comunque ha spazio di dare appunto adito a tanti piloti che magari nel mondiale non trovano spazio che possono ritagliarsi comunque un po' di prestigio in questa neonata categoria che appunto vedrà sette gare dalla Spagna fino alla doppia gara di San Marino a Campempo di Misano Adriatico e della Rivera di Rimini questo comunque è il Racing Podcast due giorni dopo per quanto riguarda il moto mondiale il prossimo appuntamento per quanto riguarda gli appuntamenti motoristici del mio canale sarà domenica alle 19 per il post gara del Gran Premio di Spagna la MotoGP e tutte le categorie MotoE compresa tornerà invece in Francia tra due settimane a Le Mans maggio sarà peraltro un appuntamento importante per i motori sul mio canale perché inizierà anche la Superbike quindi aspettatevi anche il video di presentazione della Superbike 2021 e anche il Racing Podcast a fine maggio per quanto riguarda i primi due appuntamenti della Superbike fatemi sapere cosa ne pensate di questo Racing Podcast iscrivetevi se non l'avete fatto e condividete se il video vi è piaciuto e saluto da parte di me Tutorgaard ci vediamo a un prossimo video